Roberto Formigoni scarica a Gabriele Albertini. Dopo l'accordo tra Maroni e Berlusconi, oggi il presidente di Regione Lombardia ha annunciato la sua marcia indietro rispetto alla candidatura dell'ex sindaco di Milano come suo successore e il sostegno al segretario della Lega Nord. Da giorni si attendeva l'ufficialità della marcia indietro di Formigoni che è arrivata nel pomeriggio di oggi nel corso di una follata conferenza stampa a Palazzo Lombardia. Formigoni ha ribadito la sua perplessità rispetto alla scelta del PDL di lasciare la candidatura per la guida della Lombardia nelle mani del Carroccio che governa già in Veneto e Piemonte. Aspre critica invece da parte di Formigoni nei confronti di Gabriele Albertini. Al governatore non è andata giù la scelta del parlamentare europeo di correre anche al Senato per la lista Monti. Così quello che fino a pochi giorni fa sembrava uno tra i suoi più sfegatati supporter, ora attacca l'ex sindaco accusato di aver trasformato una candidatura civica in candidatura politica. Per Formigoni si prospetta un futuro come senatore. Sarà candidato con ogni probabilità nelle liste lombarde del PDL. Insieme all'accordo su Maroni il governatore avrebbe strappato diversi posti per i suoi fedelissimi rivendicando il suo ruolo. Grazie a tutti.